In questo primo passaggio vogliamo affrontare il tema della circolazione delle opere d'autore e la loro tutela legale. Allora, cominciamo proprio da Posteraro. Una brevissima premessa. Credo che per affrontare questo tema bisogna innanzitutto dissipare l'equivoco secondo il quale vi sarebbe un contrasto tra tutela del diritto d'autore e libertà di manifestazione del pensiero. E nello stesso tempo occorrerebbe mettere da parte il retropensiero ricorrente secondo cui libertà del web equivalrebbe più o meno ad assenza pressoché totale di regole. E tenere presente a questo proposito due interventi molto significativi del Capo dello Stato in occasione dell'inaugurazione del Salone del Libro di Torino della scorsa primavera e della Giornata Mondiale del Libro. Il Capo dello Stato ha insistito sull'esigenza della tutela della creatività in quanto questa contribuisce a definire e a mantenere viva l'identità culturale, la nostra identità culturale e ha sottolineato l'esigenza che nel mondo di internet la tutela del diritto d'autore sia ancora più attenta di come lo è. Questo perché il web è uno strumento di potenza straordinaria che ha cambiato le vite di tutti che direi la rivoluzione informatica è sicuramente una tappa importante direi nella storia della civiltà umana però non c'è dubbio che il web è uno strumento, la rete è uno strumento, come strumento è totalmente indifferente ai contenuti che veicola. Fatta questa premessa il regolamento dell'agico. Il regolamento dell'agico parte da una considerazione che non basta la semplice repressione per tutelare il diritto d'autore ma occorrono in uguale misura la promozione dell'offerta legale e l'educazione dei consumatori perché non c'è dubbio che per debellare il consumo illegale o perlomeno per ridurne l'ambito occorra innanzitutto che gli stessi contenuti siano facilmente accessibili sul web e lo siano a prezzi ragionevoli e occorre ancora di più che si diffonda fra i consumatori e soprattutto fra i più giovani la consapevolezza del profondo disvalore non solo giuridico ma morale, sociale ed economico delle violazioni del diritto d'autore. Innanzitutto un primo risultato è stato raggiunto con la semplice entrata in vigore del regolamento perché in virtù di questa l'amministrazione americana ha cancellato l'Italia dalla watch list dei paesi che non tutelano adeguatamente la proprietà intellettuale. Credo che sia un risultato la cui importanza è facile intuire nel senso che ha rimosso un ostacolo che certo limitava le capacità del nostro paese di attrarre investimenti stranieri. Quello che è accaduto è la testimonianza che il web è disposto a farsi carico delle esigenze di tutela della legalità diversamente da quanto era stato da alcuni preconizzato e forse sperato da tutti quelli che immaginavano una sorta di rivolta del popolo della rete contro questo regolamento. Al contrario abbiamo avuto una risposta molto molto positiva e ne siamo soddisfatti. Allora chiedo a Bagnoli Rossi ma vedo da parte del dottor Posteraro una sostanziale positività di sguardo sul presente. Le chiedo se lei in qualità appunto di segretario della FAPA quindi a cuore tutelare proprio la proprietà intellettuale dell'opera di ingegno se la vede anche lei così rosia. Quello che secondo me è più importante è oggi, proprio oggi in questa data guardando dall'alto quello che succede l'ecosistema si muove ma non è ancora perfetto. C'è ancora tanto da lavorare però qualcosa sta cambiando perché la stessa presenza di nuove offerte parlo chiaramente del mio settore che cominciano a prendere piede, a iniziare a fare qualche numero rispetto a un inizio molto ma molto rallentato e sono onesto non è che adesso è esploso piano piano sta crescendo con grande lentezza. Ritengo che questa lentezza sia legata non solo alla pirateria, sono altrettanto onesto perché c'è un'offerta televisiva variegata, importante, che si è sviluppata e che all'interno di uno scenario molto complesso e qua mi riprendo un po' il tema degli over the top dove la nostra industria collabora con loro c'è una stretta sinergia su una serie di iniziative che vengono portate perché gli utenti utilizzano i social network, i motori di ricerca però in questo caso è arrivato un po' il momento e secondo me è questa la chiave di svolta e un po' anche il vero tema di oggi, cioè di questo momento che è la cooperazione. Allora voglio chiedere un dettaglio che però mi interessa capire all'onorevole Bonaccorsi in Parlamento questo tipo di temi, allora lei l'ho già detto prima è membro della Commissione Cultura della Camera ma anche della Vigilanza RAI a quanti onorevoli come lei interessa questo tema? Cioè è un tema che, allora evidentemente hanno autori, come dire, preme molto ma ai politici italiani quanto preme? Zero. Ah zero proprio? Sì io sono molto severa con i miei colleghi Sono molto severa con i miei colleghi e con la cultura e soprattutto la capacità di comprendere e quindi anche di avere un pensiero di fatto e quindi fare un'azione politica rispetto a questi temi. Il Parlamento quando siamo entrati nel 2000, io sono alla prima legislatura nel 2013 c'è stato un discreto rinnovamento soprattutto diciamo generazionale e questo ha portato per fortuna anche un aggiornamento di come si affrontano questi temi. Considerate che in Parlamento tutto quello che era telecomunicazioni o televisione era considerata una mucca da mungere, cioè là dove si andavano a mettere più tasse, soldi eccetera e prendere soldi, questo era un po' il meccanismo. Secondo me la cosa che viene più fuori dal ragionamento di questa mattina è che senza fare guerre ideologiche di nulla noi abbiamo un meccanismo oggi che sia CIA e che sia HACCOM che non sono più adeguati ad affrontare quello che succede nel mondo cioè la nuova realtà del web, dell'innovazione tecnologica, dei media eccetera abbiamo un sistema vecchio da questo punto di vista quindi dobbiamo in maniera seria senza appunto fare battagliene da una parte all'altra ma in maniera seria riuscire a riformare il sistema per essere in grado di competere e soprattutto di rendere equo tutto il sistema. Ad esempio per rispondere al consigliere Posteraro il regolamento che voi avete fatto, noi ci siamo confrontati in commissione con il presidente Cardani, il regolamento che voi avete fatto prevedeva e prevede di fatto un'azione importante all'interno del regolamento stesso di come dice lei di educazione alle nuove generazioni di quel lavoro lì mi scusi ma non ne abbiamo visto più traccia oggettivamente allora su queste cose bisogna essere secondo me un po' più oggettivi e realistici bisogna fare in modo di costruire dei meccanismi che poi funzionino perché altrimenti i nostri figli, io ho una figlia di 16 anni è chiaro che ogni giorno sperimento quello che raccontava prima avvocato di come vedono film o ascoltano musica quindi insomma è molto... allora da questo punto di vista loro del regolamento agico A non sanno neanche l'esistenza, B non sanno men che meno Ammesso che sappiano dell'intensa dell'agico come in sé E del tavolo soprattutto che dovrebbe fare in modo di diffondere una cultura della legalità ecco su questo siamo molto indietro, siamo molto indietro tutti quanti non solo l'autorità ma tutto il paese quindi da questo punto di vista credo che dobbiamo provare ad affrontare in maniera diversa da trentenni e quarantenni che sanno che cos'è il web e sanno quali sono appunto i limiti, le potenzialità eccetera e provare con quest'ottica a costruire un sistema che vada bene sì per oggi ma che vada bene anche tra cinque anni Certo, questo è il punto Avvocato Blengino, voglio tirarla in ballo perché lei prima era quello più come dire non so come definirla pirata, ecco lei si è definito pirata No, 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 difendo i pirati Ecco difendo i pirati e quindi No, ho detto che siamo tutti pirati Ah, siamo tutti pirati Malcomune, mezzo gatto No, siccome lo sappiamo in realtà che le giovani generazioni devono ancora molto assimilare questa consapevolezza Non ce l'hanno proprio Guardi, io su questo però ho qualche dubbio nel senso che nessun ragazzino che si scarica il videogioco piuttosto che non il film pensa di fare una cosa incommiabile il problema è che non ha mica alternativi Possiamo fare tutto quello che vogliamo ma nel momento in cui il contenuto a pagamento i ragazzini non hanno la carta di credito cioè possiamo spiegargli quello che vogliamo però c'è un dato di realtà mio figlio ha 12 anni, 13 anni, 15 anni vuole vedersi quel film va e lo trova ma come potete pensare che dica ah no, però questo è un furto e quindi io non lo vedo e quindi chiedo a papà che cosa a parte il fatto che papà probabilmente l'offerta legale non la trova e quindi lui dice va bene quindi non è una questione di non consapevolezza guardi che i ragazzi giovani sanno perfettamente c'è alle spalle più di un decennio come dire di controeducazione ma guardi che questa storia della gratuità io non sono così convinto che sia così pregnante e che sia il male della circolazione dei contenuti non confondiamo l'accesso con la gratuità cioè noi dobbiamo dare la possibilità di accesso a tutta la cultura del nostro tempo magari anche a pagamento cioè non è questione di gratis o no il problema è che i ragazzi giovani non hanno l'accesso a molti contenuti non hanno l'accesso, punto e basta o perché non ci sono per quale ragione, io questo non lo so bisognerebbe chiederlo a FAPA insomma voglio dire che in America Netflix funzioni da anni e da noi si è arrivato l'altro ieri con un'offerta scarsissima rispetto a quello che è il Netflix americano no non è, beh però è colpa è colpa di una gestione dei diritti che non è più adeguata è colpa di finestre senza senso per cui, un sistema ma che è il sistema del diritto d'autore stiamo parlando di quello stiamo parlando di quello di diritto d'autore io avevo scritto un pezzo ahimè per il post sul ahimè scusami lo tolgo avevo scritto un pezzo per il post e per argomentare la mia tesi era un pezzo sul diritto d'autore avevo messo un pezzettino di un minuto e mezzo di un film di Troisi quello dove c'è Troisi che passa il fiorino eccetera eccetera ieri sono andato a vedere ovviamente c'è il video questo video è stato rimosso per violazione del copyright direttamente da Youtube la mia citazione era lecitissima perché era all'interno di un discorso io avevo fatto quello che in America sarebbe il fair use quello che è un legittimo utilizzo di un brano io posso citare un brano di un libro ma Dio ce ne scampi a citare 20 secondi di un film parte immediatamente la richiesta di rimozione e il provider che gliene frega a lui la tira giù la tira giù ma quella è una violazione della libertà di espressione quindi mi sta però scusi dicendo anche un'altra cosa ci sono figli e figliastri di questa cosa cioè ci sono contenuti di cui tutti hanno paura ma il povero autore televisivo che ha scritto non gliene frega niente nessuno la tira giù se c'è o no una violazione del diritto d'autore non è una roba che si alza uno e dice quello è mio ah sì mi scusi lo butti giù perché se il secondo passaggio che vorrei fare che è quello che interessandomi di internet è quello che mi spaventa di più e che è ritornato nel discorso che fa PAPAV facciamo attenzione a responsabilizzare gli intermediari della comunicazione che sono i Google che sono le piattaforme aperte perché se internet funziona funziona perché ci sono dei soggetti che non si pongono il problema di che cosa ci passa sopra se noi oggi sappiamo e vediamo l'internet che lo abbiamo lo abbiamo grazie al fatto che c'è quasi una neutralità dei contenuti io mi limito a recepire poi se un giudice giudicherà che è quella frase diffamatoria che è quel contenuto illegittimo allora mi dica di buttarlo giù ma io Google io Twitter io Facebook non butto giù niente solo perché me lo dici qualcuno che gli dà fastidio perché quella roba lì è pericolosissima andare a toccare quel ganglio vitale della rete se internet è quello che è è perché c'è una irresponsabilità degli intermediari questo orizzonte che ci hanno descritto a partire dal dottor Posteraro è quanto è inedito anche per la lunga e gloriosa storia della CIA inedito inedito ma questo c'è noto c'è noto da parecchio perché in effetti la CIA è stata la prima società d'autori in Europa a rilasciare una licenza in internet nel 1989 non vorrei sbagliare quindi la CIA è da qualche tempo anzi da parecchio si è in qualche maniera consorziata con delle società consorelle che in Europa rilasciano licenze per i rispettivi repertori e quindi abbiamo creato una specie di hub un punto di di aggregazione di offerte di contenuti quelle che la direttiva europea sulle società di gestione collettiva e le licenze multiterritoriali chiama licenze multiterritoriali quindi la possibilità di licenziare presso solo una delle società che fanno parte di questi paesi tutti i repertori di tutte le società interessate quindi il nostro interlocutore il sito l'aggregatore di contenuti il motore di ricerca che chiede la possibilità di usufruire di opere nella rete ha la possibilità di ricevere questo tipo di licenze ma scusi le dico una cosa ignorante ma per esempio questo uso siccome qui molti degli autori che sono qui sono autori televisivi c'è un uso lo sappiamo insomma super moltiplicato di frammenti televisivi no? che fra l'altro oggetto anche di contenziosi complicati fra i broadcaster e i provider insomma voglio dire sappiamo di cause di blocchi eccetera su questo abbiamo fatto dei passi in avanti cioè voglio dire noi poveri autori televisivi alla fine sta cambiando qualcosa per noi o quello che abbiamo prodotto per un broadcaster stiamo studiando una serie di ipotesi che per ora si limitano ai rapporti direttamente con i broadcaster il punto è riuscire a sviluppare un'interlocuzione che fa scendere tutti i broadcaster sul terreno di internet dove noi a livello di strumenti giuridici ci siamo solo che troviamo delle resistenze da parte dei nostri interlocutori a livello di